Un autentico record per la biblioteca online della provincia di Pesaro e Urbino con oltre 450.000 visualizzazioni è sicuramente la più cliccata d'Italia. Per la biblioteca digitale di Pesaro e Urbino un autentico record con oltre 450.000 consultazioni via web è di gran lunga la più cliccata d'Italia. Vediamo. Le belle e grandi biblioteche miniera di libri esistono ancora e per fortuna non accennano a scomparire. Ma al loro fianco cresce anche il fenomeno della biblioteca digitale che permette di fare le consultazioni via internet. In questo campo le marche vantano un record, raggiunto dalla provincia di Pesaro e Urbino, 450.000 consultazioni da parte di 5.500 utenti nel 2015, tra e-book, video, musica, audiolibri, stampa periodica, dizionari e tanto altro. La biblioteca digitale, gestita dalla provincia di Pesaro e Urbino in collaborazione con l'Università Carlo Bo, ha registrato un incredibile balzo in avanti di questo servizio, diventato un punto di riferimento quotidiano per tanti cittadini, superando per numero di consultazioni le biblioteche online di Brescia-Cremona, 427.000 consultazioni, di Milano 277.000 e Bologna 239.000. Gialli e thriller si rivelano i generi più letti. Nella saggistica svetta da settimane la toccante testimonianza di Lucia Annibali, con il suo Io ci sono, insediata solo da Avarizia di Emiliano Fittipaldi.